per chi può sarebbe cosa buona pregare questa novena in ginocchio davanti ad un'immagine della nostra santissima madre seppur non sia necessario che l'immagine sia propria della madonna di guadalupe iniziamo insieme nella divina volontà nel nome del padre del figlio e dello spirito santo amen o gesù e mio signore quanto è grande la mia cecità perché dopo avermi rivelato che c'è un inferno eterno non ho temuto la tua giustizia com'è mostruosa la mia follia perché sapendo che peccando o te per nemico ho osato mille volte commettere peccato vivere anni interi senza dare alcuna attenzione al tuo infinito amore lo meritato o mio signore ho giustamente meritato che tu eseguissi la tua sentenza che hai così pazientemente rimandato lo meritato è vero ma tu hai voluto vincere la mia malizia con la tua bontà la tua misericordia ha vinto la mia iniquità io sono già vinta dal tuo amore perché tu mi hai cercata quando io fuggivo da te ma ora temo che tu mi cacci dai tuoi piedi ora che ti cerco competimento o dolcissimo gesù con tutta la mia anima detesto abborro il peccato solo perché lo abborri tu che amo con tutto il mio cuore che voglio ringraziare ed accompagnare per tutta l'eternità amen o santissima signora regina del cielo e della terra quando alzo gli occhi al trono della tua grandezza ti vedo la più grande di tutte le creature e solo inferiore al nostro creatore come posso osare chiamarti madre è proprio così signora tu che sei la madre di dio mi hai detto che sei anche mia madre hai detto che dal tuo tempio di tepeyac ti saresti mostrata come la madre amorevole e tenera di tutti coloro che cercano e chiedono la tua protezione ma questa non è la cosa più importante la cosa più importante è che in tutto questo non hai fatto altro che conformarti volentieri alla volontà del tuo figlio divino gesù che dimenticando le atroci pene che soffriva sulla croce e nelle agonie sue mortali ti ha chiesto di guardarmi come una figlia non lo merito signora non merito di essere tua figlia ma tu hai voluto essere mia madre io non ho saputo portare il titolo di figlia ma questo non significa che tu non abbia cessato di portare il titolo di madre nostra madre non hai prestato attenzione alla mia cattiveria ma alle viscere di pietà e di misericordia di cui l'altissimo ti ha dotato quando ti ha fatto avvocata dei peccatori desidero comportarmi come tua figlia ma non potrò mettere in pratica i miei desideri se tu non mi otterrai da dio una ferma avversione al peccato mortale che è ciò che mi rende indigna del tuo amore Amen Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. O Santissima Virgine di Guadalupe, quanto misteriosa e quanto sapiente fu la mano del Supremo Artefice nel ricamare la Tua veste con quel bordo d'oro finissimo che l'adorna, che allude senza dubbio a quell'oro finissimo della carità e dell'amore di Dio di cui si arricchirono le Tue apparizioni. Chi può dubitare, o mia Signora, che Tu sia incendiata di carità e amore ardente? Al Signore hai sempre presentato l'amore per il prossimo, perché sebbene Tu sia la nostra imperatrice e regina, non ci hai dimenticato. Il Tuo cuore immacolato è pieno d'amore per coloro che sono così miserabili. Stringi la Tua mano a coloro che sono caduti e Ti invocano per aiutarli a rialzarsi. Permettimi, Signora, di ricordare ciò che Tu stessa hai detto a Juan Diego. Perché non sei sulle mie ginocchia e cammini da solo? Perciò mi rivolgo alla Tua materna compassione e misericordia. Amen O mia amatissima Madre, Maria Santissima di Guadalupe, Tu sai bene, Signora, Tu sai bene che fin dalla mia tenera età Ti ho guardato e riverito come mia madre, come mia avvocata e protettrice. Da allora hai voluto considerarmi come una dei Tuoi figli. Quali grazie e misericordie ho ricevuto da Dio. So di averle ricevute attraverso di Te. Che grande mancanza da parte mia. Che grande infedeltà non averti servito e dato ricambio con la puntualità e l'amore pari alla Tua bontà. Ma da oggi in poi prometto di onorarti, servirti e amarti, come si addice a una figlia attenta, amorevole e accogliente. Lo scopo della Tua venuta in questa terra non era altro che renderci presenti per ricordarci l'amore, la cura e la sollecitudine che hai per noi come madre. Perché io, o Signora, ricorro a Te come madre. Non lasciare che la mia cattiveria faccia parte di me, così che Tu non debba allontanare da me i Tuoi occhi di misericordia. Concedimi di vivere come Tua figlia, perché non desidero altro che compiacerti e servirti in questa vita. E dopo questa vita, darti in cielo tutte le misericordie che Dio mi ha concesso per Tua intercessione. Amen. E per intercessione della nostra Signora di Guadalupe, ci benedica e ci custodisca per la nostra unzione battesimale il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore tocchi i nostri cuori, ci doni la pace. Vi saluto, vi abbraccio. La vostra piccola matita del cuore.